Buongiorno amiche, buon martedì, buona giornata, collinetta, sapete che il martedì non mi piace ma me lo faccio piacere, allegra e simpatica e bellissima questa fascetta skin care che mi rallegra tantissimo la giornata, le orecchie di mini mausto polina, il pensiero carino di oggi è non girarti indietro, no amiche non serve guardare indietro soprattutto alle cose che ci hanno fatto del male, che ci hanno fatto stare male, il passato che non è andato bene non va bene, quindi pensiamo al futuro con allegria, con gioia e spensieratezza senza mai girarci indietro, giriamoci solo per ricordare le cose belle, come bella e rilassante deve essere la skin care quotidiana che facciamo, abbiamo applicato come sempre il tonico, ora stiamo applicando uno stick idratante per gli occhi e anche un po' di cremina nel contorno occhi, questo è un campioncino mini di Clarence, insieme stiamo consumando tutti i campioncini, le mini size, perché non aveva veramente senso tenerle lì per tanto tempo e non utilizzarle, e quindi le stiamo terminando assieme, come anche questo siero mini che è di Lancome e l'Advanced Genifique attivatore di giovinezza e lo tamponiamo nel viso, la crema che stiamo finendo l'abbiamo aperta assieme perché dentro c'era un botto di crema, è una crema di Clarence idratante, mi è piaciuta tantissimo e l'abbiamo consumata tutta fino all'ultima goccina, molto importante applicare anche una crema solare, questa è la Daily Defender di Pupa, fluido protettivo 7 fattori con SPF 50, nel viso collo, decolleté, manine e braccine, e nel collo applichiamo anche una crema rassodante e questa è l'Aptalin collo seno, nelle manine io applico sempre anche un'altra crema, è la Mandorla Bio Crema Mani di Bioteca Italiana, è anche un piccolo goccino di olio prodigioso di Nux che mi rilassa e profuma delicatamente, ma gini, pini, brufolini e gli occhiaie da pandina, noi amiche ormai tutti i giorni, tutti i giorni senza mai saltarne uno combattiamo, a volte un po' di più, a volte un po' di meno, i gini, pini, i brufolini e le occhiaie da pandina, nel mese di agosto mettiamo un po' meno prodotti nel viso, lasciamo respirare la pelle perché col caldo amiche ci sta in vacanza, poi siamo belle abbronzate, vogliamo che la nostra bellissima pelle si veda ancora di più, è bello farla vedere tutto l'anno però ad agosto ancora di più, abbiamo applicato un po' di correttore di una palette di NYX, un po', poco 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 di BB Cream, Hydro BB Cream di Catrice, poi abbiamo applicato la Cipria, la Kind of Free di Rimmel e ora un tocco di blush, il maxi blush di Rimmel, pagato pochissimo su Amazon ma è veramente bellissimo e come anche molto molto bello, questo bronzer Precious Bronzer di Bella Oggi, molto carino e anche economico, è molto bella anche questo piccolo gioiellino, è il Combat Face Highlighter di Pupa in colorazione 001 Sparkle ma non troppo, lo applichiamo anche sull'arco di Cupido, molto molto carino e guardate che bello, che cute, che carino, questo è un Lip Balm di Lip Maker delle Emoji ed è dedicato a Minnie che da una parte sorride e dall'altra fa l'occhietto, molto profumato e carino, è molto bello perché oggi mi piace un sacco che ho anch'io le orecchiette da Minnie, un piccolo tocco di volume boost di Bella Oggi non può mai mancare, super combo per oggi molto carino, strega comanda color palette ovviamente di Minnie, la Minnie Mouse di Disney e Revolution, è bellissima questa palette, all'interno ci sono tutte le sagome della nostra Minnie amatissimo personaggio di Disney, super super carino, anche gli ombretti e gli illuminanti presenti all'interno di questa palette hanno la sagoma di Minnie, abbiamo applicato come sempre il nostro amico scotch di carta, abbiamo messo un pochino di primer occhi di Revolution e direi che come sempre procediamo con un look occhi carino e luminoso, nella parte interna abbiamo applicato il rosa e a tutta palpebra un rosa più acceso, l'altro era un po' più nude, invece questo è più verso il rosso, acceso, brillante e splendente, guardate che carino e soprattutto che pigmento, super pigmentati questi ombretti, come sempre tutti gli ombretti di Revolution sono molto pigmentati, applichiamo però anche un po' di marroncino dalla palette di NYX Ultimate Warm Neutrals, molto bella questa palette, ci sono dei marroni bellissimi e veramente molto molto vari come tonalità di marroncini, noi abbiamo applicato un bel marrone intenso nella piega dell'occhio e lo sfumiamo per andare a creare un look carino e portabile anche da chi magari ha un occhio incappucciato, spero, amiche fatemi sapere se la sfumatura fatta così va bene anche per gli occhietti incappucciati, io spero di sì, dovrebbe dar bene a seconda di dove è posizionata, orientata e tirata bene la sfumatura, sapete che io amo tantissimo questa sfumatura perché dà proprio l'impressione di un occhio elegante, curato, carino e anche un po' sofisticato, abbiamo applicato un piccolo tocco di eyeliner nella parte esterna dell'occhio, secondo me è super carino, è come fosse la codina di Minnie, è molto molto carino, mi piace veramente tanto, io non so quante volte oggi vi ho detto carino in questo video, ma sono veramente super happy, super felice e sono però molto curiosa di sapere cosa ne pensate amiche e amici miei del make up di oggi, la parola segreta di oggi non può essere che Minnie oppure Topolina se volete scriverlo in italiano e un cuoricino rosso, sarebbe molto molto bello per il video di oggi, quindi parola segreta di oggi Minnie o Topolina in italiano e l'immoji segreta di oggi un cuoricino rosso, il mascara che stiamo utilizzando è il mascara Art Design di Collistar che avevo trovato in profumeria in offerta a metà prezzo, pagato soli 12,50€, dà un volume panoramico e ciglia come delle opere d'arte, abbiamo tolto tamponando il lip balm e ora applichiamo questa meraviglia di Revlon, l'abbiamo comprata scontata al Ticotta ed è un rossettino in stick numero 725, è una via di mezzo tra un rossetto in stick e un lip balm perché è molto anche glossino, mi piace veramente tanto e secondo me ci sta molto bene col look di oggi, fatemi sapere cosa ne pensate, il look di oggi vi piace? io spero di avervi trasmesso un po' di allegria con questo look, come sempre io mi fiondo a lavorare, ma prima vi mando un bacio grande grande grande, ci vediamo nel video del pomeriggio e ci sentiamo nei commenti, ciao amiche amici, fate i bravi, a dopo, buona giornata!